E' un po' di difficoltà nel prendere sonno Mi ha confermato anche lui E alla fine ho capito Non lo so, forse perché col Torino proviamo a giocare tanto con i piedi Partire da dietro e un po' era quello che faceva con la Juve Non lo so, io adesso non ci penso Quello che ha visto l'avrà visto lui Mi fa molto piacere perché mi riempie d'orgoglio E' un sogno realizzato Devo stare con i piedi per terra, lavorare come ho sempre fatto E poi i risultati vengono Sicuramente è un buon giocatore Se è stato comprato dall'Inter avrà delle grosse qualità Questa sera però penso che abbia trovato davanti a sé un Gazzi In formato mondiale Ha fatto una partita spettacolare Infatti devo fargli complimenti Comunque l'Inter è un'ottima squadra E sono contento perché il Torino se l'è giocata alla pari Un buon punto contro l'Inter Però c'è un po' la mano in bocca Viste le tante occasioni avute Il rigore è sbagliato per non essere riusciti a vincerla Sì, forse abbiamo sbagliato qualcosa negli ultimi metri Però l'importante a questo punto del campionato Visto che è la prima partita Era crearle Creare le occasioni Fare gioco, imporre il nostro gioco Soprattutto anche contro una grande squadra come l'Inter Quindi ci fa ben sperare per il proseguo Soprattutto anche contro una squadra come l'Inter